Anche il grande Alberto Angela è stato abbattuto da Temptation Island. Il reality delle tentazioni ha vinto tutte le sfide e ha costretto la RAI a sospendere il suo Noos proprio in virtù del successo incontenibile del programma di Canale 5. Come ha anticipato il blog di Davide Maggio, RAI 1 ha deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione di Noos, che sul fronte ascolti fatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno Temptation Island. I numeri sono impietosi, perché nella serata del giovedì di fatto Canale 5 è arrivato a fare quasi il triplo di RAI 1. Insomma, niente da fare per Alberto Angela, che tornerà in televisione ad agosto, quando Temptation Island sarà ormai un vecchio ricordo. Noos, l'avventura della conoscenza era partito lo scorso 27 giugno con uno share non particolarmente esaltante, 13,6%, ma poi era sceso ulteriormente fino a toccare a L 11,5%. Temptation Island, prodotto dalla fascino di Maria De Filippi, partito lo stesso giorno con il 24,8% di share, l'ultimo appuntamento di Temptation è arrivato al 31,1%. Numeri troppo bassi per la RAI che per salvaguardare il prodotto di qualità firmato da Alberto Angela. Grande successo per il reality delle tentazioni, andato in onda giovedì 24 luglio con una serie di colpi di scena ma anche delle curiosità. Una in particolare è quella riguardante uno dei fidanzati, Raoul, arrivato nel villaggio insieme alla fidanzata Martina. Durante un filmato, Martina esprime il suo disappunto per le coccole tra Raoul e la tentatrice siriana, dicendo che non può perdonarle. Ma Raoul vede le immagini di Martina con il single Carlo, e ci rimane male, si arrabbia e accusa Martina di non avere valori. Infine Raoul perde il controllo, distrugge degli oggetti e si ferisce. rifiutando le cure offerte da Tony. Durante le sue sfuriate, qualcuno ha notato che gli autori fanno partire il suono della nave e in molti si sono chiesti il motivo. Semplice, la genialata degli autori di Temptation Island, sempre molto attenti alle canzoni scelte durante i video con più pathos, proviene proprio da alcune dichiarazioni di Raoul, che più volte ha spiegato, se mi parte la nave. Per dire che semmai dovesse perdere le staffe è la fine. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.